Sono sempre contenta, seguivo questo festival già da tempo, è un festival necessario per rendere consapevoli quelli che sono i percorsi che dovremmo fare tutti collettivamente per un futuro più equo, più paritario che appunto non veda più le distinzioni di genere. È un lavoro che dobbiamo fare tutti, è abbastanza lungo il processo ma facendo proprio questi momenti di consapevolezza per tutte le generazioni perché non è solo per i giovani ma anche per quelli più grandi che possano capire quali siano il benessere che porta a una parità di genere in tutti i settori e tutti gli ambiti. Vediamo come tutti i giorni arrivano video di proteste, video di ragazzi e ragazze che vengono arrestati ma che ovviamente per l'ideale che hanno, cioè quello della libertà, non smetteranno e infatti anche noi non dobbiamo smettere di parlarne.